Ciao a tutti, sono Ketty Latorre e sono una ex di Short Track, la mia specialità. Sono qui a Fanano come mamma oggi perché ho accompagnato il mio bimbo che fa artistico e così mi è venuto un colpo al cuore perché io a Fanano ho fatto i giochi della gioventù, non ricordo neanche in che anno, ero piccola, la fase nazionale dei giochi della gioventù e l'avevo anche vinta, quindi con grande soddisfazione ho rivisto Fanano. Io ho patinato fino al 92, nel 92 ho fatto le Olimpiadi e l'anno prima, nel 91, siamo arrivate terze mondiali in staffetta, per cui sport importanti anche a grandi livelli. Poi ho insegnato per 10 anni ed è fondamentale per i bambini perché secondo me ti insegna veramente a vivere, questo è l'obiettivo. Adesso ho ripreso dopo 10 anni ad insegnare però dico sempre ai miei bambini che gestire una gara, una competizione è la cosa più importante perché poi un domani un esame universitario, un colloquio di lavoro, cioè gestire le proprie emozioni, essere in grado di affrontare le cose importanti credo sia l'insegnamento nello sport più importante. Grazie.